Il Muretto La vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Cornier, l'ambulanza della Cocerossa e i carabinieri della Radiomobili di Ivrea. La giovane, subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La giovane, subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. La giovane, subito soccorsa, è stata trasportata.